ciao a tutti amici e bentornati come sempre in casa di raffi alla grande ragazzi che ne dite oggi di fare delle buonissime ciambelline light con mele e gocce di cioccolato fondente siccome in questo periodo stiamo mangiando sempre dolciumi qualcosa di più leggero che fanno bene anche i bambini per poterti dare a colazione o merenda e sono ottimi allora partiamo subito con in questa coppettina inserito un uovo che adesso andremo a sbattere allora dopo che abbiamo sbattuto l'uovo come vedete ho messo lo yogurt 125 grammi di yogurt quello che ho messo io è a cocco però se voi volete potete mettere qualsiasi fragranza anche la vaniglia è buona quindi continuiamo a girare dopo di che inseriamo 130 grammi di zucchero di canna fatto a velo integrale continuiamo sempre a girare dopo che abbiamo girato andiamo a inserire 55 grammi di olio di semi adesso andiamo a inserire piano piano 250 grammi di farina 00 quindi inseriamo piano piano mescoliamo e inseriamo fino a fine farina dopo che abbiamo inserito tutta la farina e abbiamo mescolato il tutto come vedete dentro inserito 6 grammi di lievito vanigliato e continuiamo a girare allora una volta che abbiamo mescolato anche il lievito andiamo a inserire a piacere le gocce di cioccolato fondente ovviamente non vi dico quanto ne volete mettere e più andiamo a inserire una mila fatta a pezzettini piccoli piccoli e adesso amalgamiamo il tutto ragazzi dopo che abbiamo inserito tutti gli ingredienti come vedete io ho preso una teglia con carta da forno ho preso un cucchiaio l'ho bagnato leggermente nell'olio di semi e adesso sto prendendo con un cucchiaio l'impasto e lo sto mettendo sulla carta da forno quindi distanziati uno dall'altro mettiamo a cucchiaiate il nostro impasto queste sono ciambelline al cucchiaio light con mele e gocce di cioccolato fondente è una ricetta semplicissima buonissima e leggerissima allora una volta che abbiamo inserito tutte le nostre ciambelline al posto giusto ragazzi se vogliamo abbondare un po di più dato che le mie figlie sono pazze del cioccolato fondente possiamo inserire altro cioccolato sopra però questo è facoltativo o li lasciamo come stanno o abbondiamo poi possiamo infornare la siamo pronti a infornare forno statico a 180 gradi per 15 minuti ebbene abbiamo sfornato le nostre ciambelline al cucchiaio light con mele e cioccolato fondente raga una meraviglia guardate che cottura cioccolato fondente sono ancora caldi una squisitezza guardate buonissime morbide morbide una fragranza che vi devo dire buonissime sono uno tira l'altro la loro bontà tra mele e cioccolato che si sposa benissimo buone 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 io direi di provarli ragazzi provare per credere mi raccomando beh ragazzi grazie di seguirmi come sempre un abbraccio di cuore veramente mi raccomando spodiciamo la grande mi raccomando iscrivertevi come sempre e lo so che lo fate in tanti e vi ringrazio ancora e ci vediamo ad una mia prossima ricetta ciao a tutti raga